La guerra è follia, è sempre una sconfitta, Papa Francesco, questa mattina al termine dell'udienza generale in aula Paolo VI. Il prossimo 5 gennaio nel santuario toscano della Verna la cerimonia per celebrare l'anniversario delle stimmate di San Francesco d'Assisi avvenuta 800 anni fa. Escalation di aggressioni negli ospedali italiani da nord a sud tra Natale e Capodanno e quanto denuncia Nursing Up, il sindacato degli infermieri italiani. L'ospedale di Barletta avrà presto una fermata della ferrovia e il bando di gara è stato pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. È stato un anno turistico straordinario per l'Italia e il 2023 segna il pieno recupero rispetto ai livelli pre-Covid che sono stati addirittura superati. Bentrovati spettatori e spettatrici, nuova edizione del nostro telegiornale. La guerra è follia e sempre una sconfitta, lo avete sentito nei titoli, lo ha ribadito Papa Francesco questa mattina al termine dell'udienza generale in Aula Paolo VI, invitando a pregare per la gente in Palestina, Israele, Ucraina e in tanti altri posti dove c'è la guerra. Ascoltiamo un breve stragio. I popoli che sono in guerra, la guerra è una pazzia, sempre la guerra è una sconfitta, sempre una sconfitta. preghiamo per la gente in Palestina, Israele, Ucraina e in tanti altri posti dove c'è la guerra. E non dimentichiamo i nostri fratelli Rorignia che sono sui perseguitati. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati, agli anziani, agli esposi novelli, tutti sordi a proseguire nella fede e adesione a Cristo Gesù e nel generoso sostegno alla riflessione del Vangelo. Si terrà il prossimo 5 gennaio nel Santuario Toscano della Verna la cerimonia per celebrare l'anniversario delle stimmate di San Francesco d'Assisi avvenuta 800 anni fa. Alba Di Paolo. E il Monte Santo, quello su cui il 14 settembre 1224, giornata dell'esaltazione della croce, San Francesco riceve i segni della passione di Cristo, le stimmate. E il prossimo 5 gennaio si apriranno gli appuntamenti al Santuario della Verna in provincia di Arezzo per celebrare l'ottavo centenario delle stimmate. E' prevista anche l'inaugurazione di un percorso privo di barriere architettoniche e il secondo camminamento che consentirà di poter raggiungere la cappella delle stimmate. Il messaggio che arriva dalla Verna è parola di guarigione e speranza per tutti gli uomini che può essere nuovamente consegnata a un mondo segnato da tensioni, divisioni e guerre, ma anche da desiderio di vita e futuro. Francesco spiega fra Livio Crisci, ministro provinciale dei frati minori della Toscana custodi del Santuario della Verna, come nel Natale del 1223, volle rappresentare il presepe per vedere con gli occhi del corpo l'amore di Dio incarnato nel bambinello. E così, nel settembre 1224, volle sentire un po' di quel dolore che Cristo patì sulla croce per salvare l'umanità. Da Betlemme al Calvario è l'itinerario che come Francescani, prosegue, ci apprestiamo a compiere per celebrare, dopo gli otto secoli dal primo presepe, otto secoli dall'evento prodigioso che fu l'impressione delle stimmate sul corpo del Santo di Assisi. Voltiamo pagina a escalation di aggressioni negli ospedali italiani da nord a sud tra Natale e Capodanno e quanto denuncia Nursing Gap, il sindacato degli infermieri italiani, che la definisce un'emergenza senza fine. Sentiamo. Un vero e proprio bollettino di guerra, un escalation di violenze senza fine che vede gli infermieri italiani trasformarsi ancora una volta nelle vittime sacrificali della inspiegabile rabbia di una parte della collettività in profonda crisi. E quanto scrive in una nota Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Gap, il sindacato degli infermieri italiani. Non ci sono parole per raccontare quanto accaduto tra Natale e Capodanno negli ospedali italiani da nord a sud, precisa De Palma. Sei le aggressioni fisiche ufficiali denunciate. Calci, pugni, schiaffi, minacce, scenari che facciamo sempre fatica a descrivere, aggiunge il presidente. Tra le altre, anche quella subita da un infermiere del pronto soccorso del pediatrico di Bari. Lo scorso 28 dicembre, l'uomo, anche minacciato, è addirittura svenuto in seguito allo stress dell'evento. Il 26 dicembre, invece, al pronto soccorso del San Paolo di Napoli, un infermiere e una dottoressa sono stati aggrediti fisicamente dai parenti di un paziente appena deceduto. Per De Palma sono necessari interventi da parte della politica perché si comprenda che gli infermieri non sono nemici contro cui combattere o sfogare rabbia e angoscia, ma rappresentano quei professionisti che nell'esercizio delle loro conoscenze, competenze e responsabilità si prendono cura della collettività. L'ospedale di Barletta avrà presto una fermata della ferrovia. Il bando di gara è stato pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. I particolari nel servizio di Francesco Rossi. Con la realizzazione entro il 2026 della nuova fermata ospedale di Barletta di Rete Ferroviaria Italiana, la città potrà usufruire di un trasporto ferroviario più efficiente ed efficace grazie all'attivazione del collegamento ferroviario metropolitano con la stazione di Barletta Centrale, la quale a sua volta diventerà stazione di interscambio, non solo treno gomma e treno bici, ma anche tra la rete RFI e la rete gestita da Ferrovie del Nord Barese, che stanno completando l'intervento sul secondo fronte della loro stazione di Barletta, lato via Vittorio Veneto. L'ha precisato l'assessore regionale pugliese ai trasporti e alla mobilità sostenibile Anita Marodinoia, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova fermata ospedale di Barletta, con un importo a base di gara di circa 13,6 milioni di euro, per un investimento complessivo di 22 milioni di euro, finanziati con fondi nazionali. La fermata Barletta ospedale sorgerà tra la stazione di Barletta Centrale e la fermata di Canne della Battaglia, sulla tratta Barletta Canosa di Puglia. Si svilupperà con un marciapiede laterale di 250 metri di lunghezza e con accessibilità garantita da una nuova viabilità, che si collegherà attraverso una rotatoria all'esistente via Ippocrate, attraverso un nuovo percorso ciclabile al sistema di mobilità ciclabile urbana previsto dal Pums di Barletta. Verranno inoltre realizzati un parcheggio di circa 140 posti auto, una fermata bus-navetta, un terminal per la sosta bus a lungo termine, un percorso pedonale protetto e attrezzato con sistemi di schermatura solare Frangisole e arredo urbano per il collegamento diretto con l'ingresso dell'ospedale di Miccoli. L'intervento è inserito nel più ampio progetto di potenziamento ed elettrificazione della linea Barletta Canosa di Puglia del valore complessivo di 313 milioni di euro, finanziato per una quota di 100 milioni di euro con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Cambiamo ancora argomento. È stato un anno turistico straordinario per l'Italia. Il 2023 segna il pieno recupero rispetto ai livelli pre-Covid che sono stati addirittura superati. Ascoltiamo. Il settore turistico italiano ha completato con successo il percorso di recupero dal periodo di fermo imposto dalla pandemia da Covid-19, registrando risultati positivi nel corso del 2023. Secondo le stime del Centro Studi Turistici di Firenze per Asso Turismo Confesercenti, il numero totale di presenze nelle strutture ricettive dovrebbe chiudersi a 445,3 milioni, evidenziando un aumento significativo dell'8,1% in più rispetto all'anno precedente. Sorprendentemente, per la prima volta dal 2019 si è superato anche il periodo antecedente alla pandemia con 8,6 milioni di presenze in più rispetto a quel periodo. Il contributo determinante al sorpasso del 2019 è stato dato dal forte aumento dei turisti stranieri. Le presenze estere hanno segnato un notevole 13,7% in più rispetto al 2022, raggiungendo oltre 228,5 milioni di presenze, superando addirittura il dato del 2019 di 220 milioni. Il mercato italiano ha registrato una crescita più moderata con un più 2,8% rispetto all'anno precedente, totalizzando 216,8 milioni di pernottamenti. La ripresa si è manifestata in entrambe le tipologie di strutture ricettive con un aumento stimato del più 9,3% per le strutture alberghiere, 276,2 milioni di presenze e del più 6,1% per quelle extra alberghiere, 169,1 milioni di pernottamenti. Mentre il sud e le isole chiudono l'anno con una crescita del più 4,4%, il nord ovest registra un aumento dell'11,7%, il centro del 10,4% e il nord est del più 7%. E continuiamo a parlare di turismo perché sono previsti incrementi di arrivi e pernottamenti in Puglia in questo 2024. A stimarlo è il tour operator VamonosVacanze.it. Ascoltiamo i dettagli nel servizio. Arrivi e presenze in Italia raddoppieranno nel 2024 e la stima del tour operator VamonosVacanze.it che basandosi sui suoi dati ha rielaborato numeri ed evidenze di Stat e Banca Italia. Quest'anno dovrebbe registrarsi il valore più alto dei pernottamenti dal 2010. Negli scenari possibili quello più ottimista prevede infatti un incremento medio del più 108% per gli arrivi e del più 111% per i pernottamenti, con incrementi più elevati in Sardegna, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo e Sicilia. Complessivamente, includendo anche il turismo interno, si tratterebbe di oltre 226 milioni di turisti che sceglieranno l'Italia per le vacanze, andando a generare oltre 809 milioni di pernottamenti. In ogni caso, tutte le destinazioni regionali registreranno un andamento positivo dei flussi turistici. In questo scenario, la spesa turistica salirebbe così del più 64% rispetto al 2023, passando da 108 a 177 miliardi. E in un periodo in cui l'inflazione si fa sentire in modo pesante, le famiglie pugliesi sono chiamate a trovare soluzioni creative per mantenere vive le tradizioni culinarie senza gravare eccessivamente sul bilancio familiare. Sentiamo. Le festività sono appena trascorse, ma le famiglie pugliesi si trovano ancora a fare i conti con un bilancio che riflette il peso dell'inflazione, rendendo ancora più difficoltoso reggere il costo dei prodotti enogastronomici tradizionali. Il cenone di fine anno ha comportato una spesa complessiva di circa 160 milioni di euro, come evidenziato nel bilancio di Capodanno tracciato da Coldiretti Puglia. L'85% delle famiglie ha optato per festeggiare nelle proprie case o in quelle di parenti e amici, mentre il restante 15% ha scelto ristoranti e agriturismi, generando oltre 10.000 presenze, secondo le stime di Terra Nostra e Campagna Amica. Il bilancio presenta un aumento del 12% rispetto al Capodanno dell'anno precedente, con una notevole impennata dei costi per alcuni prodotti chiave. Le cime di rape sono salite del 22%, i calamari del 18%, le lenticchie dell'11% e l'uva ha registrato un aumento di oltre il 100%. Le tavolate si sono allungate con una media di 8-10 persone, dove lo spumante è risultato essere il protagonista per oltre l'83% dei partecipanti. Le lenticchie, simbolo di buona fortuna, sono state presenti nell'80% dei menu, seguiti dai chicchi d'uva, sul 45% delle tavole e dai melograni, simbolo di riparo e protezione. La produzione locale di lenticchie, in particolare le lenticchie IGP di Altamura, è stata molto richiesta, spesso accompagnata da cotechino e zampone. Tuttavia, nonostante la tradizione gastronomica marittima della regione, il 61% ha optato per il salmone estero, mentre solo il 12% si è concesso a ostriche. La presenza del pesce a chilometro zero è stata notevole, con alici, vongole, anguille, capitone e seppie a farna da padrone, ma alcuni, a causa degli elevati costi, hanno dovuto rinunciare al pesce, preferendo piatti tradizionali come le cime di rapa stufate e i panzerotti fritti. Era questo il nostro ultimo servizio, si chiude questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Teledeon. Grazie 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 Grazie